Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping! Qui è il baule della Veronica Boutique, l'inquadratura non è delle migliori, però la luce è buona. Com'è possibile che sia così bella questa luce? Ho trovato il posto giusto per farvi video la sera, ma in realtà solo perché devo farvi vedere tutti questi capospalla in super sconto. Come promesso, ecco un video in cui ci saranno tutti i capospalla, che poi andremo a cercare insomma tra le relle comunque, tutti i capospalla invernali a 8€ come prezzo fisso, quindi qui abbiamo il discorso del prezzo fisso. Allora, partiamo subito dal primo, che è questo cappottino in lana, tipo lana cotta, grigio, molto carino. Allora, sono in sconto semplicemente perché io me ne devo liberare, nel senso che in vista ovviamente della primavera imminente, questa è una taglia L addirittura però in realtà forse veste M ed è 100% lana, è un ottimo affare secondo me ragazze, perché 8€ per un capo del genere, lo mettete adesso perché in realtà è primaverile, nel senso non sembra pesantissimo anche se è di lana. Ora io ho su questo mega golf, comunque veste bene un 42, 42 morbido, anche verso la 44 magari da portare aperto. Ora io non sono vestita giusta per fare queste tipologie di video, non va bene. Allora, prima, aspettate un attimo, ecco avevo su il mio golf super figo, però ho dovuto toglierlo perché altrimenti mi si ingoffa tutto, è molto pesante, è un vintage anni 80 tra l'altro. Allora, volevo fare un salzone pazzesco alle mie amiche Arianna e Martina. Ciao belle, un bacio, che sono due bambine e due sorelle che mi seguono e volevo salutarle perché oltretutto sono bravissime, quindi sono più brave di me, tutte e due, proprio fanno le veci del bambino della Veronica, quindi qualora mi dovesse succedere di avere bisogno di qualcuno, io chiamo loro perché sono bravissime, quindi ciao belle, le avevo promesso che le salutavo in questo video. E niente, continuiamo. Allora, come vi dicevo, questa è una L, però in realtà aveva stemme ed è 100% lana e costa il costi, ve l'ho detto all'inizio, quindi non so qua ripetermi. Guardate che carino, ecco adesso diciamo che ragioniamo un pochino meglio. Allora, ragioniamo meglio, è tutto con i bottoni, è proprio un classico cappottino, bellissimo tra l'altro per la primavera, nel senso, perché no? Ok, vi vedete? Sì, bello, 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 8 euro ragazze, un prezzo veramente top, è tenuto benissimo, 100% lana, non fa pallini, non fa nulla, è perfetto, è semplicemente in sconto, comunque una L42-44 ci sta dentro alla grandissima. Ora, qui dovrei stare qua a abbottonarmi tutto, ma non ne ho voglia, sono i primi due, tanto questo qua sono sicura che a qualcuno di voi piacerà. Passiamo poi a un parca, questo è un parca verde, è di un bel verde brillante, ve l'avevo mostrato in qualche vecchio video, è una taglia ML, costa anche questo, solito prezzo, non sono abituata a dire i prezzi e se non li dico mi sembra di soffrire. Anche questo è un 42-44, mi piace la brillantezza di verde perché non è il solito verde parca militare spento, ma è un verde, forse non si nota, però essendo così lucido è un pochino più brillante ed è molto carino anche questo e si chiama, il brand è taglia L, The People Rep. Poi continuiamo perché veramente sono tantissime cose, poi vorreste vedere anche qualche nuovo arrivo, ma cominciamo a smaltire le giacche così possiamo riempirvi roba nuova. Giacca di pelle Roberta Ferrini, vera pelle, taglia 44, questo è meraviglioso, prezzo assurdo ed è una blazer tutto completamente in vera pelle, morbidissima tra l'altro, ma io penso che voi lo vediate già e questo è proprio un 44, però all'occorrenza può andar bene anche, ha un 42, guardate che meraviglia, spero che si veda. Anche così con la minigonna per fare un outfit un po' stile Madonna, mi piace tantissimo, e infatti mi ha ricordato un po' Madonna negli anni 80, bellissimo. Piumone della Wild Roses, taglia L, bellissimo, colore arancio, questo arancio un po' quasi khaki, guardate che meraviglia, taglia L, quindi va bene anche questo, 42, 44, cappuccio con il pelo, ah no, ah no, che strano, ha il pelo ma non ha il cappuccio, muoio, no non l'abbiamo visto, giuro. Cioè, anche questo è bellissimo, tre quarti, molto caldo, molto morbido, sembra quasi in Alcantara, vabbè, non so come si dice, no, forse sto dicendo una sciocchezza, un po' di trampolata, sapete quel tessuto tipo camoce, insomma, molto bello, vado sbrigativa perché comunque sapete che con gli sconti le cose non è che ve le devo proprio, cioè ve le ho già fatte vedere la maggior parte. Poi vi faccio vedere questo, questa è una taglia invece piccinina, una taglia S, 40, super imbottita, anche lui, questo non mi fa più, sono sicura che non mi va, l'avevo già provato, taglia S, oltretutto è anche di piumino, vero piumino, quindi affarone, vediamo se mi va, sapete che io ho la capacità di entrare in tutte le taglie, però questo non mi si chiude, quindi taglia S, un bel piumino color cioccolato, marrone, da mettere con un bel jeans bianco, un stivaletto, secondo me fate la vostra bella figura, è anche tutto lavorato qua sul lato, un po' stile anni 90, però è tornato, cioè tutto torna, tutto torna, quindi assolutamente molto molto bello. Poi, passiamo avanti, piumino, corto questo, beige, XS, vera piuma tra l'altro, pure questo, entriamo anche nell'XS, tanto, che problemi ci sono? A taglio bambino praticamente, è un bellissimo piumino, XS in vera piuma, super, a me ovviamente non arriva, quindi XS anche S va bene, per carità, non c'è problema, però è meno, in realtà riuscire anche a l'altro, ma mi sento un po' attaccata via, in realtà neanche tanto, però una volta si sarebbero messi, però, boh, mi sento un po' attaccata via, bellissimo in vera piuma, fantastico, ha il suo cappuccio col pelo, è perfetto anche questo, ottimo, 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 poi, andiamo avanti, allora, tank, taglia, e anche questo, piumino verde, militare, bello imbottito, questo sarà un S un po' più morbido, è una sorta di parchettino corto, anche questi vanno bene in questo periodo, che appunto stiamo abbandonando le cose diciamo troppo pesanti per avvicinarci alle cose un po' più leggere, ovviamente mi sta malissimo perché non è la mia taglia, però, giusto per farvi vedere la vestibilità, ha fatto veramente molto bene, guardate, solo questo, questo costava chissà quanto, ai suoi tempi, un 80 euro tutti, quindi, ottimo, porto qualità prezzo, al baule della Veronica Boutique, si può stare solo che bene con i prezzi, ragazze, questo invece è scontatissimo, tutto di pelle, perché ha dei segni da portare a far lavare, diciamo, l'avevo, anche questo, forse non ve l'ho mai fatto vedere, questo mi va perfetto, è una taglia M, c'è i gancetti, però, è da portare a lavare perché, presenta alcuni segni, ed è praticamente, vera pelle, presenta alcuni segni tutto imbottito, chi ha voglia di portarlo a far lavare da una pelletteria, torna nuovo, è sempre un capo di pelle, costa 5 euro, più basso, perché ovviamente avendo la rovinatura, non mi va di vendere quella di più, XL, questo piumino corto, sempre marrone, guardate che carino, anche questo ha la bottonatura così un po' stortina, molto carino, come taglia, vediamo, vediamo come va, ma anche solo per andare a passeggio in montagna, fare una camminata, questi piumini qua, al posto di vestirci da scappati di casa, allora questo va bene, a me ovviamente va grande, è abbastanza, neanche tanto in realtà, un 46 va bene, per un 46 è assolutamente bellissimo, guarda, anche comunque addosso hanno il loro perché, e sono molto carini comunque, poi, sono un po' sbrigativa, perché ho tanti piumini da farvi vedere, e poco tempo, altro piumotto, taglia M, anche questo è un ASM più meno, super imbottito tra l'altro, questa ha un'imbottitura stranissima, anche questo è un color caffè, vedete, ha proprio un collone pazzesco, con la cosa, cioè diciamo la cintura sorta, anche questo è super carino, con magari un bel pantalone bianco, io questo color caffè ce lo vedo veramente tanto, più o meno una taglia appunto M, 42, si dice proprio che è una M, infatti, M, 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 poi mi sento sfogliata, così, per me non ho sul mio volo, sono tutti tra l'altro sbottonati, speriamo di venderli tutti perché non li ho neanche più rimessi posto, taglia S di garage, e garage sarà, no, sì, e garage, è vero, anche questo qui è un piumino, vediamo, tessuto esterno, no, è molto carino, però non è di più, ma per fortuna meglio, questa è una S vera e propria, guardate che carino, anche questo è un piumino da battaglia, questi prezzi prendeteli e metteteli via, sono tutti perfetti quando hanno qualche problema, ve lo dico, ha la zippo, guardate, con sotto il polsino, è comunque talmente tenuto bene che, sì, va bene, entro un po' di pelucchietti, però non sono rovinatissimi questi capi, anzi, poi pelliccia vintage, bellissima anche questa, grigia, questo è il un 46, mi sembra che dicesse, bellissima questa, guardate che meraviglia, pesantissima, caldissima, fantastica, anni 80, allo stato puro, meraviglia, ovviamente a me sta un pochino oversize, quindi consiglio ovviamente una taglia 46, guardate che bella, è ecologica, è talmente bella che sembra quasi vera, bellissima, con un bel cappuccio gigante, se siete anche un pochino più morbide di me, arriva sicuramente, nel senso, è un 46 che all'occorrenza, siccome arriva dagli anni 80, andava bene anche un 44, perché no, perché no, perché no, va vedi che le taglie sono sempre un optional, bella, questa tiene anche un sacco caldo, prezzo top, altro parca, questo, taglia incerta, non si sa, questo per me, è una taglia che bello svuotare tutta la rella, anche questa è una taglia ML, parca verde, semplicissimo, con dentro un po' di pelo, ecologico, taglia L, va bene, poi, non c'è nessun brand, vabbè, altro primino, questo, questo è molto carino, anche lui, grigio, un po' più femminile, che dirvi, adesso ve lo mostro l'indossato che faccio prima, sono quelli un po' tipo stile cappottino, però un piumino, vedete, fatti così, doppio petto, meraviglioso, questo anche con gli abitini, con una gondellina, ci sta molto bene, taglia M, prezzo sempre quello, sotto, andiamo avanti, cioè, un video un po' così, scusate, ma con gli sconti un po' tipo svuotatutto, vi volevo chiedere a proposito di svuotatutto, mi è stato consigliato, ora non mi ricordo bene da chi, comunque, vabbè, chiunque me l'abbia consigliato più di una persona in realtà, grazie, volevo farvi per lo svuotatutto, al posto che farvi lo solito svuotatutto, farvi i pacchetti, tipo dei pacchi, non so, 5 euro, 10 capi, divisi ovviamente per taglia, vi potrebbe andare bene, anche per il futuro, con le cose da svuotare, che sono cose, comunque, bene o male, in qualche modo avete già visto, sia chi viene in negozio che acquista online, perché le intravede, e io ho la possibilità di smerciare la roba senza esagerare, tipo 5 euro, 10 pezzi, quindi costerebbero, boh, non lo so quanto al pezzo, e ovviamente a sorpresa, sia per le persone che vengono fisicamente in negozio, si prendono il suo sacchetto e se ne vanno, e sia per le persone che comprano online, fatemi sapere se vi può interessare l'idea dei 10 pezzi, 5 euro, ovviamente tutte cose tenute bene, come al solito, non porcherie, insomma, è un'iniziativa che volevo fare, però tipo al buio, così uno magari dopo arriva a casa, o comunque gli arriva il pacco a casa, sia quelli che arrivano qui fisicamente, avete capito, e ha la sorpresa, secondo me è molto carino, anche perché, non essendo schifezzo, perché non è che sono una sconosciuta su internet, vi posso mandare anche delle belle cose, vi faccio vedere anche questa meraviglia qua, è un bellissimo, più o meno, taglia M, anche questo più o meno un 42, e anche questo è super sconto, bellissimo colore pistacchio, è molto carino anche questo, molto plastico, femminile, ma allo stesso tempo particolare, 42 anche morbida, va bene, bellissimo il collo tra l'altro, e anche il colore molto particolare, e anche questo a questo punto lo metterei in mezzo alle giacocze, poi andiamo alla ricerca di qualche giacca, venite con mezzo, spostiamo, ci sarà una luce pessima, però, in altronde, è così, allora, altro piumino questo, allora, questa è una taglia SM, praticamente super sportivo, super carino anche per andare appunto a camminare, ma anche per chi si veste sportivo, ed è una SM appunto, il solito prezzo di colore, bellissimo, questo è un Montclair vero, scusate, un colma vero, anni 80, taglia media, 42-44, originalissimo, guardate che meraviglia, sta molto carino addosso perché fa l'effetto di un parca, fa l'effetto di un parca, magari ve lo mostro indossato, il piumino non l'ho mostrato in realtà perché è proprio semplicissimo, quindi questo invece è più strano, oltre ad essere originale anni 90, è proprio particolare, perché vedete che c'è anche la manica così strana, poi si tirano tutte le culisse, è molto molto carino in realtà, per chi ama lo stile anni 80, a quel prezzo qua, secondo me non può, non può, non può, non può farselo scappare, poi, altro capo in super sconto, guardiamo se c'è qualche piumino, ah vi faccio vedere questo che non c'entra nulla perché è un arrivo primaverile, è un refrigerator, allora, questo è un refrigerator taglia originale, taglia L, ma dove, ma dove, per me è una M, però è originale questo, eh, è una S questo, altro che L, originale, sapete quanto costano questi capi, meraviglioso, è molto leggero, faccio vedere tutta l'originalità, ok, e questo qua ragazze, viene, è a 25 euro, per chi lo prenota oggi, appunto, veste la taglia S, per chi lo prenota oggi lo può pagare 17,50 euro, e si porta a casa, un refrigerator, ecco, andate a cercare su internet quanto costano, e poi ci sentiamo, non c'entra nulla, ma vi faccio vedere anche lo sconto di questa felpina Converse taglia S, che viene a soltanto 3 euro, manica corta, molto carina, fatta così, piccolina, piccolina, e anche questa camicia taglia L della OVS nuova con etichetta, in questo rosino chiaro, un pochino stile gestatino, ha col collo alla coreana, anche questa qua è in super sconto ragazze, ha 5 euro nuova con etichetta, ormai le butto fuori queste cose qua, perché dopo un po' che mi girano il negozio, io sono stufa Converse, felpina della Converse, taglia media, SM, carina, anche solo per stare in caso, per fare una passeggiata, questa qui ragazze viene 3 euro, butto fuori così io, senza troppi pentimenti, maglioncino taglia S, super etnico, meraviglioso, questo è veramente bello, e belle anche le maniche, e costa ragazze 5 euro, bello però, nella gamba dei capi spalla taglia M, questo spolverino color indaco, bellissimo, lo faccio vedere indossato, poi stile Ellie Mcbill, anni 90, anche questo al prezzo dei capo spalla in sconto, anche se in realtà questo è anche una L, tranquillamente, anche se dice che è una M, forse, anche se in realtà è un nuovo arrivo primaverile, però preferisco vendere lo in sconto, ho bisogno di fare spazio a nuovi capi, assolutamente, magliettina di taglia S, basic, questa qui, rosa, con le maniche un po' sbuffetto, lo scollo a V, S ma va bene anche M, tranquillamente, questa viene 1 euro, ottime condizioni, non è che costa 1 euro perché è brutta, faccio vedere anche un nuovo arrivo, questo è il video più mischiato del mondo, questo è bellissimo, aspettate che lo metto, è di Pennypool, che è una linea di Penny Black, se non ricordo male, bellissimo, è un topettino viola, fatto così, un po' stile impero, un po' stile così plissettato, più o meno una taglia ML, dietro così col drappeggio, questo è meraviglioso e costa 12 euro ragazze, è bellissimo, anche il colore super super primaverile, questo colore qua ci vestirà per tutta la primavera, estate, il viola, colore che va tantissimo e io lo adoro, quindi a me piace molto, mi ero un po' stancata un po' di anni fa, ve lo avevo già forse anticipato e adesso invece sono di nuovo carica per poterlo portare perché ho fatto il riposo, il riposo. Poi, altro golfino taglia S di Terranova, ve l'avevo già mostrato, un giacchino specie bomber, un po' anni 70, molto carino, ottime condizioni, mi viene 3 euro. DSXS, giacca così, proprio fatta blazer, meravigliosa anche questa in denim bianco e questa qua viene 6 euro ragazze. Rez taglia LXL, questo maxi maglione, molto carino, anche questo, panna, viene 2 euro. Svuota tutto proprio di quelli tosti, insomma vi faccio. Nuovo arrivo, questo invece è meraviglioso, cioè non che gli altri non siano belli, però questa è bellissima, di Carla Ferroni, taglia 44, una bellissima camicia, tutta ricamata, costa 15,90 euro vintage, ha tutti questi meravigliosi ricami ed è semplicemente meravigliosa. Sopra comunque un jeans all'interno di una gondellina a tubino, ma proprio anche portata lei così da sola con un bel pantalone elegante, è stupenda ragazze, molto bella. È un tessuto molto prezioso tra l'altro e poi voi non so se vedete tutti i ricami che ha meravigliosa color panna, taglia 44, poi di qua abbiamo qualche giacca da mostrare. Sì, abbiamo un cappottino, no, andiamo più avanti, quelli no, non ve li faccio vedere se no mi perdo via troppo. Piumino, così siamo a livello del blu, l'aria S, azzurro così cobalto, bellissimo anche questo, indossato merita, molto bello. Poi, 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 poi. Vi faccio vedere questo abitino qua nuovo, arrivo, compagnia italiana, per non farvi vedere sempre solo le giacche, taglia S, guardate che meraviglia, verde militare con tutti questi fiorellini, molto carini, ha un bello scollo a vici, si può mettere sotto una canottierina se siete pudiche, bella la manica a tre quarti, molto leggero, molto carino, da portare con standali, con stivali, con stivaletti, ha la culissa anche sul fondo, molto effetto il retro, guardate che meraviglia, e il fiocchino da fare, solo da una parte, no, da tutte e due le parti, che cosa sto dicendo? E questo qui dalla compagnia italiana viene 13 euro, bellissimo, taglia S, altro vestitino in felpa molto carino, questo qua, questo invece è di Milano Moda, e viene 12,90 euro, un abitino di felpa verde militare con la spila, ci potete mettere qualsiasi spila attaccata, manichina a tre quarti, e poi viene giù bello svasatino, guardate che carino anche questo, molto molto carino, il prezzo ve l'ho detto, t-shirt militare, taglia, taglia, LXL, ma va bene, anche meno, nel senso, mi sembra molto piccola, in realtà è una M, secondo me è un 42-44, mimetica con i patchwork, nuova con etichetta, viene 6 euro ragazze, molto carina anche questa, con un bel jeans cargo, anche all'interno di gonne a tolino, perché no? tipo e sconto, giacca in pura lana vergine, taglia 50, questa, verde militare, è un blazer, meraviglioso anche questo, ed è sempre nei capi spalla, scontati, addirittura questo ve lo voglio scontare ulteriormente, è lana vergine, vero? Andiamo se mi ricordo bene, 100% lana vergine, e questo qua addirittura ve lo metto ragazzi a 7 euro, al posto che 8, così, perché mi voglio complicare la vita, vi faccio vedere ancora qualcosa, qualcosina, a nuovo arrivo, un altro abitino meraviglioso, questo è una taglia S di Zara, giusto? Molto bello, anche questo, guardate che meraviglia, è un abitino blu, bellissimi colori, fatto così, particolare perché, allora, davanti a un semplice tipo tubino, ma è molto strutturato, a dire il vero, anche la zip, qui sul lato, bellissimo anche il fiore, spero che renda, e è molto semplice, qua nella parte davanti, dietro c'è la sorpresa, meraviglioso, con una piccola apertura sulla schiena, quindi sembra di avere due pezzi praticamente, è molto carino, come lunghezza, a me non va bene perché è un S, quindi sognatevi che io me lo possa mettere, e come lunghezza sto per al ginocchio, bellissima la trama, e costa, ragazze, condizioni perfette, pari al nuovo, costa 14,90 euro, e queste sono le manichucce, fatta camicia, con i tre bottoncini, bellissimo anche questo, poi, 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 vi faccio vedere un'altra giacca, di queste qua, poco nuda, sempre con il prezzo dei cappotti che vi ho detto, 80% lana, e taglia M, taglia 42, è un cappottino grigio con la cintura vita bassa, molto carino anche questo, da mettere via per l'anno prossimo, doppio pezzo, molto, molto spizioso, nella sua semplicità, anche perché abbiamo abbandonato un po' il discorso della, della vita, come si dice, abbiamo abbandonato un po', oddio, stai fermato, il discorso della, della vita, lei è nuda, potrei anche vestirla, che, che, che brutta persona che sono, mi dispiace, abbiamo abbandonato un po' il discorso della delle cinture basse, però, chi se ne frega, possiamo farle tornare quando ci pare, e piace, ci vestiamo come ci pare, ancora qualcosina, allora, questo bellissimo cappottino, di Zara, taglia, non si sa, non l'ho scritto, vabbè, taglia SM, a vederlo così, guardate che carino, grigio, anche questo ha il prezzo dei capi spalla, super scontati, poi, un altro grigio, sempre, anche questo molto carino, questo è un Made in Italy, normalissimo, l'Anemo Air c'è dentro, un SM, che ha sempre lo stesso prezzo, ed è anche molto particolare, perché, vedete, quanto è particolare la, la sua, il suo colletto, questo è veramente bellissimo, ragazzi, vi sto facendo vedere dei capi meravigliosi, un po' frettolosamente, ma, semplicemente, perché, siamo, siamo agli sgoccioli, anche questo bel maglioncino, super caldo, lungo, è molto carino, l'è scontato a 3,90€, e fa anche da abitino, vedete, con la ciambella, poi, che vi posso far vedere, in sconto, un altro, specie di, golfino, cardigan, questo è, taglia L, e viene 4€, carino, anche questo, super invernale, taglia L, va bene anche M, ovviamente, mi raccomando, scrivetemi anche i prezzi delle cose che sto facendo, extra, 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 che altro posso farvi vedere, ah, vi faccio vedere questo maglione qua, che questo, invece, è un nuovo arrivo, tra virgolette, è un maglione taglia XL, grigio, un po' melangiato, in realtà, con tutto a costine, con questo scollo molto carino, è una bella taglia XL, questo, quindi va bene fino alla 50, e questa, ragazza, è 12,90€, per chi lo prenota oggi, lo può pagare 11€, faccio un po' di sconti del giorno, poi, 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 anche questo è super scontato, cardigan della Onyx, vintage, taglia SM, con dentro della lana, bellissimo anche questo, 30% lana, è un super vintage, anni 90, non mi capacito che sia ancora qua la manica, anche leggermente a tulipanino, come si usava, e anche questo qua è in stile baffi, la mazza vampiri, è lì McBeal, ed è scontato a 4€, ragazze, dai, aiutatemi a svuotare questo negozio, che ho bisogno di riempirlo di roba nuova, e ce ne è veramente tantissima, però, prima, bisogna proprio svuotarlo, perché altrimenti non si può riempire di cose, tra un po' vado alla cassa, praticamente, sto continuando ad avanzare, senza paura, ok, va sempre proprio contro luce, ma non posso farvelo, cioè, no, vabbè, è contro luce da paura, però non posso farvi vedere il divano, perché è un po' devastato, quindi, ci spostiamo con destrezza, ho ancora qualcosina da farvi vedere, in realtà, era più bello di là, però, la luce non è bella qua, lo so che vi farò venire il mal di testa, vabbè, perdonatemi, poi, continuo con delle cose in sconto, allora, altro piumino, anche questo è super scontato, più o meno siamo sulla taglia LXL, bellissimo collo Vistoriano, bellissimo colore, tre quarti, molto morbido, fatto molto bene, siamo più o meno sulla taglia anche 48, poi, l'ultimo che vi faccio vedere per oggi, che non è che sia finita, è questo giacchettino qua, anche lui super scontato, è una taglia SM, e viene 5 euro, bianco, con i polsini sul fondo, dice che è un 42 di H&M, sì, comunque va bene anche S, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà probabilmente domani, io vi ringrazio e spero di avervi fatto compagnia, di avervi intrattenuta, volevo farvi vedere ancora qualche capo spalla, a dire la verità, però, non so neanche io, forse meglio di no, o forse meglio di sì, o forse meglio di no, nel nero non vi faccio vedere niente, a dire il vero, quindi sì, non possiamo interrompere il video qua, vediamo se c'è ancora qualcosa qua da mostrarvi, penso che la luce è buona, anche se c'è questa obrovvietà, cappottino nero, 80% lana, anche questo taglia SM, anche questo fa parte della solita promozione, quanta roba c'è qua incastrata, il nero è sempre fetente, ci sono sempre 8 minuti di cose, mamma mia, questo è bellissimo, nuovo arrivo, va bene, ve lo farò vedere un'altra volta, questo qua è a 6 euro, taglia 48, va bene anche a 46, di H&M, stile Gendarme, giacchina, va benissimo per la primavera, il prezzo ricordatemelo voi, perché già l'ho dimenticato, e poi vi faccio vedere una giacca in vera pelle, questa è maschile, però è molto bella, sempre nelle promozioni, e anche questo qua appunto è morbidissima, e segna che è un 46, se non ricordo male, 46, è da uomo, vediamo come sta indossata, alla fine possiamo metterla anche noi donne, perché no? Ok, tenete conto che a me va un pochino grande ovviamente, però se siete comunque una taglia 46, pensateci, perché è una pelle talmente morbida, talmente morbidissima e confortevole addosso, che non ho potuto lo stesso, non me la sono sentita di non prenderla su, quindi c'è di non ritirarla, quindi l'ho ritirata comunque, direi che possiamo ritenerci soddisfatte di questo video, vediamo se ho ancora qualcosa da mostrarvi, c'è un po' qua saltano fuori giacche da tutte le parti, un'altra giacca, questa è una taglia europea M USA S, perché non ho capito questa cosa, e anche questo qua è un giacchettino sportivo molto carino, grigio, fatto così, molto molto carino, adesso lo provo io, lo provo io, così vediamo un po' come sta, sì io direi che è una M, anche questo è un ottimo affare, perché è fatto davvero bene, sono quei giacconi, giacpotti che vanno a essere pagati, va benissimo come taglia M, vanno a essere pagati una bella cifra, ce ne ho ancora da farvi vedere, mamma mia, non ne finisco, cioè non ne vengo più a capo, intanto speriamo di smaltire qualcosa con questo video, vi obbligo ad acquistare, anche questo è molto carino, è un eco piumino, taglia S, fucsia, benissimo anche questo, prezzo dei piumini, anche se è nuovo arrivo primaverile, però leviamocelo dalle scatole, e anche questo ve lo metto a 5 euro, una taglia S, anche per una bambina, cioè è molto carino, è piccolino, perché è una S piccola, va bene quasi anche XS, carino perché ha, vedete, la cosa qua, la collanina. Vi faccio vedere ancora un nuovo arrivo, anzi no, nuovi arrivi no, ho ancora un parca da far vivere, non è possibile, un altro parca di Jacqueline de Young, anche questo lo vende un tipo da tank fashion, 42-44, con il cappuccio con il pelo, anche questo è molto bello, a vederlo così non rende, indossato vi assicuro che è bello, credete a me, fidatevi del baule, altro giacchettino, no, ma quante ce ne sono? Questo qua secondo me è una taglia S, bellissimo colore chiaro, un po' elegantino per essere un piumino, anche questo è molto scontato, molto bello. Cardigan di Artigli taglia L, scontato a 2 euro, grigio, un po' vissutello, però ancora super portabile, no, perché no, ma che solo per stare in casa. Giacca in lana cotta Benetton, taglia 42-44, anche questa è il prezzo delle giacche, bellissima perché ha tutti questi, vedete, questi stegni qua, anche questa per un outfit preppi, pantaloni principe di galle, se camicia sotto magari a fiori, ci sta molto bene in contrasto, si fa un bell'outfit. E poi c'è questa bellissima giacca in velluto della Sisley, questa invece è una taglia 40 ed è meravigliosa, anche questo per uno stile preppi garçon, è molto bella e in realtà è tenuta perfettamente, cioè sembra nuova. Io ne ho parecchie, me le vedrete presto in outfit super preppi per la primavera. Un bacione ragazze, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!